I libri di Chiara sono sempre quelli che io chiamo i libri urgenti, cioè è difficile trovare nei libri attuali, io leggo molto, dentro l'urgenza, cioè una cosa che poi tu hai proprio voglia di dire, in quel momento lì vuoi raccontare quella cosa lì, e nei tuoi libri, ma non solo in questo, in generale, c'è sempre una roba che tu hai scoperto, che hai capito, hai fatto un percorso, hai deciso che quella roba lì valeva la pena raccontarla, quindi sei velata, ma sei sempre anche svelata, perché ci sei sempre anche moltissimo, ed è anche un, quello che io vedo nei tuoi libri è anche una grande generosità, perché come se tu avessi scoperto delle cose e non vedi l'ora urgentemente di dirle, di dire ragazzi, cioè voi non, potete capire che cazzo di cosa che ho capito io, adesso ve la dico, poi nel frattempo mi invento una storia, ci metto dentro dei personaggi, la costruisco, scrivo anche bene, ma dentro il cuore, il succo, è una scoperta, ed è quello il bello dei libri, non so perché voi leggiate i libri, ma io personalmente li leggo anche per quello, perché vorrei che qualcuno mi spiegasse un po' la vita, e quando lo trovo in alcuni scrittori, un po' questo svelamento, questo intento di raccontare quello che hanno capito, allora mi sento bene, sono contenta, e quindi la tua generosità di scrittura è anche quello, cioè è il raccontare quello che hai capito. È veramente speciale per me questa serata, perché qualche mese fa, a ottobre, avevo appena finito la prima stesura di questo romanzo, e sono capitata qui al circolo dei lettori, erano dei giorni complicati per me, strano, ma erano dei giorni complicati, e ho incontrato, l'avevo già conosciuta però velocemente, Maurizia Rebola e Bobo, erano dei giorni difficili, e improvvisamente è stata fatta una famiglia, è stata fatta una rete di protezione. Di resilienza. Di resilienza, e io sentivo il bisogno, la voglia ho detto, sentite, io questo romanzo, siccome la vita mi ha dato un grande dono, che è quello di realizzare un sogno, cioè di che cosa è successo, niente, no, di trasformare la mia passione, che ha proprio a che fare con questa urgenza, in una professione, ho detto, credo sia arrivato il momento di dire grazie, e dico, e mi piaceva che avesse a che fare con Torino, perché in quel momento Torino si era presa cura di me, come aveva già fatto in passato, perché io ho condotto una trasmissione qui a Torino, insomma, per me veramente è la mia seconda città dopo Roma, Torino, e mi hanno raccontato la realtà di Casa Oz. Quindi oggi un po' è il battesimo di questo romanzo, e lo presenti tu, e che mi fa felice, mi emoziona, mi toglie le parole, che è una cosa non consueta per me. Sì, è vero, questa urgenza c'è. Io non so se ha a che fare con una generosità, o con un... io sento che è generoso chi l'ascolta questa storia, perché ne ho talmente tanto... Dopodiché i miei romanzi hanno più a che fare con... non tanto vi devo dire questa cosa che ho scoperto di risolutiva, ma vi devo dire quest'altro problema che ho scoperto, no? Cioè, è più che altro di dire... No, non è vero. Eh no, l'ho capito meglio questo problema. Un po' di soluzioni le dai, c'è un percorso perlomeno. C'è un percorso però che è fatto mentre scrivo, non è che io all'inizio dico, ho capito questa verità, adesso dico, cerchiamo insieme la soluzione per questo problema, e in questo caso, proprio la favola te lo fa prendere di petto, tu forse, tu sicuramente questo lo capisci attraverso la comicità, no? Quando ti sposti in un mondo altro, paradossalmente le cose le incontri in una maniera più diretta, no? Certo, certo. E poi, secondo me, questo racconta... è un po' come il navigatore, no? Che sbagli la strada e ti dice, ricalcola percorso, ricalcola, perché la protagonista tutte volte va lì, boh, sbaglia, torna indietro, ricalcola percorso, ricomincia. Allora, raccontiamo perché ovviamente voi non sapete qual è la trama, è uscito oggi, quindi ieri, oggi, chi lo sa. Insomma, la protagonista ha un bellissimo nome, vai te. Che si chiama qualcosa di troppo. Perché il bello di ambientare una storia in un universo immaginato è quello di poter finalmente chiamare per nome le cose. Tutti i miei personaggi, tutti i miei romanzi hanno qualcosa di troppo. Di solito le donne qualcosa di troppo e gli uomini qualcosa di troppo poco. Però è qualcosa di troppo, no? Però è quello. Finalmente in un universo alla Calvino tutto immaginato e però adulto si può chiamare per nome la protagonista. È qualcosa di troppo, sente troppo, vuole troppo, soffre troppo, è troppo felice. È troppo diavolo, è troppo angelo, tutte e due. E chi è che la sopporta questa qua? Suo padre, sua madre, sostanzialmente. C'hanno una responsabilità di averla messa al mondo, no? Sì. Ed è una quindicenne il target, più o meno. Lei, secondo me, non ha età, in verità, certo bisognava dargliela perché nasce, è bambina e poi è improvvisamente adulta, come succede nelle favole, no? Quindi non a caso la prima parte è sul dolore, che è sul dolore dell'infanzia, con cui tutti noi ci confrontiamo in un modo o nell'altro e la seconda parte è su quello che ci potrebbe salvare, ma troppo spesso ci inganna, che è l'amore. Esatto. Quindi questa bambina, qualcosa di troppo, è una bambina incontinente, troppa roba dentro. Ti sei ispirata a te stessa? Io mi sono vista tant'errimo, cioè proprio l'ingombranza. È così, è così. Quella cosa che tutti dicono per cinque minuti, ma Luciana è fantastico. Però poi dopo due maroni, sì, infatti, no è che sei ingombrante, capito? Sei ingombrante, è così, cosa devo fare? Non è che posso ammazzarmi, no? E quindi niente. Allora, insomma, questa bambina, purtroppo, un po' dobbiamo raccontare. Pensa che oggi è uscita la prima, stanno uscendo le prime recensioni, oggi ne è uscita una molto bella e però a un certo punto la giornalista scrive veramente bella e dice, certo nessun genitore vorrebbe una figlia qualcosa di troppo. Io sono rimasta male. Ma come no? Ma come no? No? Non ci vogliono bene tutti. Per cinque minuti. No, no, era per dieci l'altro libro tuo. Dieci. È un'altra cosa. Però anche quello era un percorso, no? Un cammino. Allora, e quindi niente, insomma, a un certo punto, però bisogna raccontarlo un po' sta fiaba. Intanto perché hai scritto una fiaba, che è la prima volta che ti misuri con questa... Sì, perché io ho sempre, da bambina, sentendomi qualcosa di troppo da subito, questa ingombranza io l'ho provata a contenere scrivendo da sempre. E in effetti pensavo proprio oggi in treno che non è il mio primo libro illustrato, perché il primo libro che scrissi, che avevo sette anni e si chiamava Clara Enrichi. Poi arrivarono Clara Enrichi, crescono i figli di Clara Enrichi, non finiva più. veramente. Aveva le illustrazioni mie, sette, ce l'ha scritto Chiara Gamberale editore anni sette e mezzo. Mia mamma ce l'ha, che stasera ci sono i miei genitori, ce l'ha ancora. Buonasera, complimenti, le danno l'otto per mille. E quindi io comunque le disegnavo io, che non ero brava a disegnare, però avevo urgenza di scrivere. E quindi non è esattamente il mio primo lavoro illustrato, però dentro al sogno di diventare, di scrivere, c'era il sogno di riuscire a scrivere qualcosa come il piccolo principe, appunto, come il visconte di Mezzato, cioè qualcosa che potesse venire letto a diversi livelli di età e sempre con diversi risultati. Ma tu pensi che questo libro sia un libro per bambini, per adulti o per tutte e due? Io penso che sia un libro per adulti e per bambini accompagnati da adulti. E questo l'ho capito anche perché io ho dei lettori, ho i miei amici più cari, la mia famiglia allargata, quindi ho detto provate a leggerlo ai vostri figli, io non ho figli. E però ti raccontavo a cena che un mio amico caro l'ha letto a sua figlia che a dieci anni gliel'ha spiegato perché a certi passaggi è più un libro per adulti questo, è mascherato, è come il piccolo principe, quando muore il piccolo principe vallo a spiegare a un bambino, eppure qualcosa capisce. E questa bambina non le andava di studiare, dice ma come però non fai mai i compiti, la maestra si lamenta e lei gli ha detto e papà sarò qualcosa di poco. E quindi vuol dire che comunque in qualche modo l'aveva capito. Io quando eravamo piccoli le favole erano tremende, il piccolo principe muore, la mamma di bambi muore. Oggi io non so tu ma io non ho amato tantissimo Inside Out, questo cartone animato, no? Spacciato per il cartone animato per grandi sulle emozioni. Dico ma come? Fai un cartone animato sulla necessità del dolore e alla bambina le dai un dolore farlocco che cambia casa e fagli morire qualcuno. Divorziare i genitori. Cioè l'anima dei fratelli Grimm. Sì, perché secondo me, secondo me oggi un po' manca quel rapporto. Quella dose di realtà cruda. O io da piccola stavo male, mi annoiavo, passavo moltissime ore da sola con il portiere. Oggi invece i bambini o fanno qualcosa o qualcosa altro, nel momento in cui è, tieni il cellulare così stai a contatto con tutti. E quindi io, paradossalmente, il mio libro più fantastico è il mio libro con il messaggio più sociale, sociale più, più urgente. Io sono un po' preoccupata. Più urgente. Perché sempre? Siamo sempre là. Allora poi, insomma, a un certo punto, bisogna dirla sta roba perché sennò non si sblocca il racconto dove va a fine. A un certo punto, alla luce di quello che sta dicendo Chiara, schiatta la madre, la regina. Senza pietà. Senza pietà, anche malamente, tra l'altro. E anche proprio si è addormentata serenamente. Un cavolo. Quindi, a questo punto, il problema è lei. E dice, io adesso sono da sola. E tu dici una frase molto bella che io me la sono sottolineata, perché purtroppo ho avuto a che fare con questo pezzo della vita, che dice, la morte non significa che qualcuno se ne va, ma che tu nel frattempo resti. Che secondo me è una roba semplice, lineare, però verissima. Cioè, non è tanto la man... Non so, è proprio l'idea che tu resti senza. Cioè, che è questa cosa qua. E' così. Io, se tu, chi conosce i miei libri precedenti lo sa, tu se li hai letti lo sai, nella testa ho frasi nevrotiche, ho giri nevrotici, non arrivo direttamente alla principale. Scrivere questo romanzo, quindi, è stato molto faticoso proprio per trovare frasi di questo tipo, per trovare la chiarezza di questi frasi, capito? Perché il mio cervello non funziona così, è più... Fa confusione, fa una confusione forse pure per... E' più qualcosa di troppo. E' più qualcosa di troppo e quindi ti distrae da verità anche così tremendo di dire, ma il problema non è che qualcuno è andato via, è che tu stai lì... E' che sei tu da solo. E' che tu sei da solo. E quindi la nostra protagonista, qualcosa di troppo, dice che ha un buco, troppo buco, al posto di un cuore, troppo cuore. E il buco non le fa sentire più niente. E tu... Adesso volevo... Guarda, vuoi che io legga la pagina 35? Un attimo. Allora, dice, doveva trovare un modo per liberarsi di quel buco, una soluzione, perché faceva troppo, troppo male il buco. Anzi no, peggio, il buco non faceva niente. Quel buco non le faceva niente ed era questo, questo a spaventarla. Proprio lei, che sentiva sempre troppo, adesso non sentiva più niente. Niente. Figlissimo. Bravo. Ah, come ti capisco. E quindi niente. Per cui la povera qualcosa di troppo cosa deve fare con sto buco? Urla e senza accorgersene, urlando, non sento niente. Lei che è abituata sempre a mutuare un imbarazzo con un'esagerazione. Bella. Bella, questa segnetela per il prossimo libro. Questa ce la segniamo perché... No, parlo alla casetta. Nelle note dell'aereo. Vuoi che me lo segni io? E' così? No, no, io ho purtroppo troppa memoria, quindi è un altro dei problemi. Vabbè, aspetta che fra un po' di anni ti passa anche quello. Non ti preoccupare, anche lì poi non ti ricordi. Lei che, fammela ripetere, lei che è sempre abituata a mutuare un imbarazzo con un'esagerazione, non lo sa fare perché fa troppo male. E perché questo è un libro sulla difficoltà di conoscere noi stessi e il fatto che invece questa cosa va fatta perché esistono due esperienze. Io nella vita non ho capito tanto, sto per compiere 40 anni. Però una cosa l'ho intuita. Una bambina. Eh. Però che le due esperienze che ci fanno crescere o che ci fanno diventare un po' affrancare dai bambini che siamo stati, i nostri genitori, i nonni, le cose, secondo me sono due. Il dolore, e questo lo dicono in tanti, la sofferenza aiuta, e l'amore, ma non solo l'amore per un uomo, io per amore intendo la felicità. E non a caso la prima parte di questo romanzo è dedicata al dolore e la seconda all'amore. Come a dire, se tu giochi a nascondino con te stesso, nel momento in cui ti sorprende un dolore tremendo o ti arriva una felicità immeritata, perché tu non eri pronta per... E, beh, insomma, un confronto che ci vuole. Comunque questo tuo sbudellamento è un po' la marca dei tuoi libri. Cioè sei sempre lì, sei uno speleologo. E l'altro ieri proprio è... Ma com'è? Dovevi fare lo psichiatra, l'analisi. Io però sono stata dall'altra parte, molto tempo. Non posso stare, capisco il genere. Ma io mi ricordo quando facevi anche la trasmissione alla radio, che era bellissima, che facevate testa, cuore e pancia. E pancia. E in effetti quando ti sorprende un dolore, come l'infanzia, perché la prima parte è l'infanzia, la seconda è l'età adulta in questo romanzo. Quindi l'infanzia ci sono questi dolori tremendi che ti investono, tu li senti ma non li capisci, non li sai interpretare e quindi ti senti niente. E a quel punto chi arriva, un personaggio, che se lo leggi da ragazzo ti sembra un personaggio, ma se lo leggi da grande e se lo scrivi da grande è la voce della coscienza, che è il cavalier niente. A te è stato simpatico o antipatico? Perché io l'ho amato moltissimo, io che l'ho inventato. A me sembra uno con le ascelle un po' pezzate. Prima immagine. E non gli vuoi bene per questo. Non tanto, per quello no. Per altri motivi. No, ma poi è bello perché è uno che si pulisce continuamente gli occhiali, però probabilmente con la lana, per cui sono sempre sporchi. No, è un bel personaggio, ma perché sono tutti personaggi potenti, molto simbolici. Non sei una da sfumature tu, non sei cinquanta sfumature. Sei un po' codice a barre. Ma neanche tu però, no. Neanche a me. No, 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 le sfumature. E quindi, a te piace molto il cavalier niente? Ma anche a me piace. Però all'inizio, al primo impatto, ti sembra un fagnano, come diciamo noi in Piemonte. Un pelendrone. Un pelendrone. Un pelendrone. Sì, è una voce scomoda, ma perché? Perché è la voce, diciamo, dell'incoscienza, che è una voce fastidiosa. Nel momento in cui stiamo male, noi vorremmo due strade, o fare finta che non è vero, o affezionarci a questo dolore, e confonderci tutti con questo dolore. Però poi che cosa succederà? Che quindi nell'età adulta saremo quelli che hanno perso i genitori, quelli che hanno subito un trauma, quelli che erano picchiati, e faremo scontare a tutti i poveracci che ci capitano, dicendo, no, scusa, non è che ti ho tradito, è che io da piccolo non mi hanno saputo amare. Sì, ma due pari. Hai capito? E quindi il cavalier niente dice. Perché è tutto così, cioè non è che siamo tutti felici, siamo tutti che navighiamo nella stessa merda con qualche piccolo momento di felicità. L'infanzia. C'è un libro bellissimo, io non lo so se lo conosci, è un libro meraviglioso di Tom Robbins che si chiama Natura Morta con Picchio. No. È bellissimo, te lo regalo, perché ti piacerà, domani te lo porto in radio. È bellissimo, perché l'ultima frase è non è mai troppo tardi per costruirsi un'infanzia felice. Ah, sì, sì. È bene, no? Come a dire, forse gli incontri che facciamo ci servono anche per dire, vabbè, bambino, ti metto via, forse puoi diventare qualcos'altro, come ci insegna, no? Enrico Abaricco, in maniera molto più sostanziale rispetto ai nostri discorsi, però di dire, forse possiamo andare avanti, forse ai bordi di quello che fa male c'è altro e il cavalier niente la richiama a questa evidenza in una maniera. Sopporta il buco, ripeto, quando succedono cose troppo brutte ci mettiamo un po' ad accettarle, tanto che all'inizio non ci sembrano nemmeno vere. E mentre la testa prende tempo per capirle, il cuore ci diventa un pezzo di groviera. Quindi non lo odiare, il tuo buco, accarezzalo ogni tanto, ma non ti ci sei affezionare troppo, altrimenti non passerà mai. Se lascerai stare il buco e lo accetterai senza tanti starnazzi, vedrai che entro un anno si restringerà da solo e diventerà addirittura qualcosa di prezioso da avere dentro di te, come un passaggio segreto. Ecco, poi magari di nuovo si allargerà e di nuovo si restringerà, perché i buchi che abbiamo nel cuore fanno così. Ma tutto passa, ragazzina. Però non a caso nella copertina abbiamo disegno, se fosse proprio questa immagine, per me la più bella di quelle che ha disegnato Tuono Pettinato a servizio di questa storia. Scusa, apriamo la parentesi di Tuono Pettinato, perché secondo me due parole dobbiamo dirle. Sono belle queste illustrazioni. Forse qualche cosina del signor niente lì, del cavaliere niente, esteticamente magari ce l'ha. Tuono Pettinato. Eppure tu pensa che veramente la cosa più straordinaria di questa collaborazione con questo artista, davvero geniale, pazzo totalmente, che questo Tuono Pettinato non so chi di voi lo conosce, andatelo a conoscere, e lui non è l'illustratore classico, è, per capirci, un amico di zero calcare, uno di questa famiglia che stiamo cominciando a conoscere, di illustratori, narratori. Ma in verità io ha fatto, lui veramente una cosa magica l'ha fatta, tante, perché è per me l'illustrazione dell'infanzia che passa attraverso il cuore, perché se vedete la copertina del romanzo, in verità poi quando aprirete il romanzo avrete la sorpresa di capire che è il cuore quel passaggio, non a caso la copertina è rossa, quindi è come dire entra con me, non avere paura, trasformiamo questo buco in un passaggio segreto che a proposito di rivelazioni che mi ha fatto la scrittura è una delle due rivelazioni più grandi di questo romanzo, delle frasi, e però tutti noi abbiamo un cavalier niente che poi è dentro di noi ma una persona che ci ricorda questa voce, è incredibile, come tutte le mie amiche hanno detto ma l'aveva visto in faccia questo che ti ha ispirato il cavalier, perché attraverso l'inconscio fra la scrittura e le, somiglia tantissimo il cavalier niente non tanto a tuono pettinato ma alla persona che nella mia vita ha avuto a che fare con questa figura, è pazzesco quanto ci somiglia fisicamente e lui non l'aveva mai visto, quindi tuono pettinato è un po' tuono pettinato. Pensa mia, quindi molto sensibile. Va su altri canali. Bene. E poi c'è un'altra cosa che è interessante come discorso, c'è questa ragazza che si sente strana e gli altri sono normali, il concetto di strano è di... Sempre. Ma tu sei strana. Però all'inizio gli piaci per questo. C'è una frase in un mio romanzo cui io voglio molto bene che si chiama Le luci nelle case degli altri e la mamma dice alla figlia in una lettera che scrive il giorno che la figlia nasce dice tutti gli uomini si incantano quando allo zoo vedono una giraffa però poi a casa vogliono tenere un cagnolino. E com'è? E quindi certo che è qualcosa di troppo da una parte vedrete c'è qualcosa di troppo e dall'altra i ragazzini abbastanza che sono abbastanza contenti abbastanza tristi e che da una parte subiscono il fascino dall'altra non ce la possono fare solo il cavalier niente nel suo essere estremo può sopportarla e quindi supportarla però. Però lei naturalmente non accetta subito questa cosa quindi sì per riempire il buco comincia a prendere lezioni di greco di cinese di danze pianoforte di qualsiasi cosa perché è vero tutti noi quando abbiamo i buchi cerchiamo di riempirli non è che li teniamo lì. E più che mai poi entra in smorfia libro che è la parodia dei social network io devo dire che io penso che questo istinto a riempire quest'ansia che abbiamo dentro anziché ascoltarla ce l'abbiamo tutti però veramente penso che oggi più che mai la società chiamiamola come ci pare apparentemente dica ti aiuto io a non sentire questo vuoto e in verità però ti condanna solo a ritardare l'appuntamento e e non potevano mancare in una favola in una che è un romanzo che ha a che fare con l'eterna insoddisfazione dell'essere umano il fatto che oggi secondo me ci stiamo un po' rincoglionendo secondo me oggi con questa difficoltà di e quindi assolutamente doveva esserci lo smorfia libro che nel regno inventato di questo romanzo è un lenzuolo che tutti stendono dalla loro finestra con la loro faccia ovviamente è la metafora dei social network è la parodia proprio dei social network è una persona che dentro a questa urgenza non può che non cadere in questo in questo tranello per poi uscirne perché lei prova tante strade le sbaglia tutte fino a trovare poi ma essendo qualcosa di troppo prova prova qualsiasi cosa perché non potrebbe fare niente cioè ascolta queste il cavaliere niente però non ci crede insomma non ce la fa non ci crede ma poi sempre a lui ritornerà perché io penso che questo anche nella vita l'ho capito grazie a una persona proprio di questa città che si chiamava Luciano Segre tu lo conoscevi? è morto qualche anno fa ti sarebbe piaciuto molto? era una persona era qualcosa di troppo anche lui e a lui ho dedicato il libro che ho scritto insieme a Massimo Gramellini perché è morto pochi mesi prima che uscisse e lui è stata una persona un adulto io ero una ragazzina e è stata la persona attraverso la quale mi sono innamorata di Torino fra l'altro dopodiché ce ne sono state diverse però è pazzesco come gli scrittori gli attori si innamorino tutti di questa città Papaleo è venuto a abitare qua lo sai Rocco Papaleo ma perché sei innamorato di una torinese? no no di Torino no è Battistone è la Murgia cioè abita qui Michela pure? vai viene però io lo capisco io ci ho abitato qui un paio d'anni per lavoro eh sì sì per parola mia quando conducevo parola mia col professor Beccaria e con Luciano Rispoli sì 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 e io qui e Luciano Segre però lo conobbi quando ero ragazza e lui fu uno dei primi adulti che laddove io mi sentivo diversa con i coetanei diversa con gli adulti io penso che le persone che ti salvano la vita sono le persone che ti dicono sei qualcosa di troppo a me non mi sembra pazienza mi va bene così per me sei solo qualcosa di fatto così cosa ti senti di troppo tu? beh senza dubbio nel sentire nel sentire dunque nel desiderare dunque nell'aspettarsi guarda ieri è successa una cosa curiosa che ieri è uscito il romanzo e l'abbiamo presentato a Milano ed è venuta una lettrice nel momento delle dediche e mi ha detto tutti sappiamo è uscito questo film La La Land no? e mi ha detto e sai perché e lo diceva come un'espressione bellissima te la devi usare perché è bellissima guarda Luciano questa te la devi usare tu perché mi fa sai perché le persone un po' La La Land come noi era bella come espressione non ho ancora visto il film le persone La La Land però è bella come espressione queste persone un po' La La Land poi è difficile capito che riescono a stare bene perché se sono un po' La La Land poi non si danno davvero degli obiettivi ma la vita è anche una foresta che ti capita mentre la attraversi a me piacciono le persone di questo tipo e mi piace raccontare questo tipo di umanità eh sì infatti ci riesci peraltro benissimo e non so io devo dire che l'avevo letto poi me lo sono riletto ancora ieri sera poi ho visto un po' di sangremo ah no io non ne ho visto niente come va? beh benissimo bello? qualcosa di troppo benissimo no va benissimo e c'era il coro dell'Antoniano e con questi a cantare una insomma una compilation di grandi successi dal Caffè della Peppina 44 gatti come sigla no 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 come ospiti sul palco hanno chiamato un po' di tutti hanno chiamato anche uno che non è non è mai andato in mutua non ha mai fatto eh micchia uno onesto uno che non ha non ha rubato eh un eroe per dire l'Italia ormai come siamo ammessi l'eroe uno che ha lavorato non male non ha rubato e no e c'erano questi bambini mi è venuto tanto da pensare a questa protagonista qualcosa di troppo perché i bambini del coro dell'Antoniano non sono cambiati mai nel corso degli anni no Marielle è morta da un sacco di tempo ma c'è un'altra una megera cattivissima dei fianchi così e questi bambini sono tutti qualcosa di troppo io mi ricordo che quando ero piccola volevo essere così allora cantavo davanti allo specchio con quelle smorfie pazzesche che facevano e non è cambiato niente perché da bambino vuoi proprio anche essere un po' qualcosa di troppo perché così ti devi distinguere dagli altri il problema è quando poi sei così da adulta quando ci prendi la mano sì 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 e quello vuol dire che però secondo me c'è e a me sai che incontrare i lettori scrive persone come Bobo che dice ma parli di me mi ha fatto dire che allora in questo coro dell'Antoniano dove anche se abbiamo un po' più di vent'anni siamo ancora lì però non siamo soli no 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 certo di persone che non hanno capito che a un certo punto bisognava almeno lo diciamo almeno lo diciamo e io mi fido di più di anche perché nella seconda parte del romanzo qualcosa di troppo incontra l'amore e cinque innamoramenti che non vanno bene e che sono personaggi reali che non lo dicono che non se lo dicono che si sentono nel giusto che dicono io l'ho capita la vita io lo so come crescere dal coro dell'Antoniano io lo so come uscire di lì e invece no e quindi io preferirò sempre che dice non sono capace è una specie di divina commedia 2.0 è un certo punto ogni girone è un uomo diverso quindi c'è qualcosa di buffo qualcosa di blu qualcosa di giusto e sono tipologie di uomini secondo me proprio di umanità nel senso che tanto di uomini tanto di uomini Chiara sì guardiamoci degli uomini ne hai scritti così bene è quello che ti fa ridere il pirna il paranoico il fanatico poi c'è l'artista che nessuno lo capisce il mistico e abbiamo proprio contemplati tutti però siamo sicuri che non ci siano anche donne così nel senso che oggi io penso che quello di rifugiarsi di rifugiarsi in un le vedi no le finte complicate cioè quanti uomini dicono perché lei però è diversa è tenedosa no non ha un cazzo da dire non è tenedosa non ha niente da dire per quello questa zitta che hai fatto per me qualcosa di troppo è femmina perché me la sentivo così però io credo che l'istinto che provoca in lei una persona che non si conosce e che si vuole evitare incontra la famosa persona che la distrae no il primo il primo incontro è e quanti uomini dicono mi fa rilassare le donne dicono mi fa ridere dopodiché c'è qualcosa di blu che è il paranoico però anche quanti uomini dicono è fragile ha bisogno di me e quante donne dicono io adesso io lo aiuterò grazie a me sarà diverso potrebbe essere ma infatti questo personaggio la protagonista è una donna perché però potrebbe essere tranquillamente un bambino maschio un uomo nel senso appunto un uomo persone che negli altri non cercano di capire chi sono gli altri ma pensano che gli altri stanno lì a disposizione del vuoto che hanno dentro e di dire e tant'è che io per la prima volta grazie a l'impianto favolistico che ha preso l'urgenza che avevo dentro questa espressione a me ha proprio illuminato ed è stata la grande la più grande illuminazione di questo romanzo quando a lei dopo ogni innamoramento dice e le prendeva una grande nostalgia di niente che è il personaggio niente però che è quello che proviamo tutti quando diciamo ho tanti problemi che confusione è mi innamoro va bene e poi però comunque quella quella fase finisce quella droga si esaurisce e ritorni a te stesso sempre più te stesso sempre e trovare un nome per questa sensazione in cui ci ritroviamo davanti a noi stessi non mi era mai venuto così io l'ho sentito la nostalgia di niente cioè è sì ma perché poi dopo un po' ti rompi la coscienza di essere noi tradotto anche parole basse che poi è una fatica cioè invece il niente è anche uno stato benefico no dell'essere umano invece noi abbiamo l'orror vacui la paura del vuoto no quindi invece il niente è anche terapeutico sì io non capisco le persone che non sanno stare da sola io forse ci so stare fin troppo e comincio a credere da un po' che chi sa stare da solo sa stare con gli altri che non sono due cose non credi che proprio chi sa stare da solo bene e poi sa stare con gli altri bene altrimenti io delle persone però è la differenza cioè stare da solo è un conto e avere a che fare con il vuoto è un altro sì quello intendo stare da solo per me è avere a che fare col vuoto io oggi sono arrivata da Milano ho fatto una serie ho incontrato una serie di librerie poi sono andata alla stampa avevo proprio sentivo il bisogno fisico di farmi mezz'oretta col soffitto una chiacchierata così che per me nella mia giornata ci sono questi momenti e li ho imparati da piccola in un mondo in cui era possibile perché mio papà tornava tardi la sera mia mamma lavorava fino alle 6 e io senza problemi stavo o col portiere o col portiere ma si chiamava Cesare gli volevo bene veniva a prendermi a scuola quindi era no 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 era uno tranquillo tranquilli pover amore no e cosa ti raccontava Cesare? ma anche niente anche niente è tutto nato da Cesare però quei grandi pomeriggi in camera da sola nell'attesa che la mamma non torna ma tu sei figlia unica no un fratello più piccolo però è arrivato che avevo 7 anni 6 anni e mezzo 7 quindi la solitudine la conosco perché 7 anni addirittura dice Jung che dai 6 ai 9 anni qualunque cosa succede è come se non succedesse niente no? la chiamava sì questo è interessantissimo e mi doveva fare la psicologa la psichiatra anche io? no perché poi mi potevano chiamare a tutte le ore invece le psicologhe poi dicono no alle 9 di sera si spegne il telefono no ma sai quanti casi umani avresti attirato ma già senza senza parcella dici però secondo me quelle ore passate da solo ad avere sentimenti scomodi la paura che la mamma non torna l'ansia di essere da soli di non essere capiti stare con quei sentimenti senza bisogno di dire e allora fai pattinaggio e allora fai danza e allora andiamo a fare e allora fai con questa è una tendenza degli ultimi anni perché? è una domanda che mi faccio anch'io io avevo i genitori che avevano una latteria e stavo da sola a casa e sentivo a mille cenè e poi facevo lo zecchino d'oro e io mi scrivevo Clara Enricchi sono diventata cretina ma però io mi chiedo Luciano io me lo chiedo se fossimo state bambine oggi forse tu se fossi stata bambina anziché fare magari non avresti avuto il tempo di avere così paura da fare no diciamo che non avendo altri talenti se non fare la cretina ci saresti riuscita lo stesso eppure secondo me non saresti mi mandavano a nuoto non riuscivo a nuotare mi mandavano a danza non riuscivo a danzare però magari ti davano un cellulare in mano e lo riuscivi a usare non riesco neanche adesso ah bene va bene non ci sarebbe stato questo problema però poi c'è un un passo che volevo leggere perché è proprio bello 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 pagina 134 sai di che cosa sto parlando ecco qua temo che tu abbia sempre sottovalutato il non fare principessina è un'attività per cui ci vuole parecchio impegno sai proprio grazie a non fare e con un aiutino di madama noia allora sì che potrai conoscerti sapere chi sei a quel punto solo a quel punto sarai libera di aiutare chi ti pare e di mangiare quello che preferisci ma non avrai bisogno di farlo per sentirti nel giusto avrai davvero voglia di farlo perché il bisogno è solo un sogno prima o poi finisce o comunque finisce eh ancora con questa storia principessina una volta per tutte pensa come è fatta una bottiglia la sua parte più importante qual è? beh quella che si riempie di acqua o di sciroppo o di lampone esatto cioè la parte piena di vuoto grazie a quella parte la bottiglia potrà venire riempita di acqua o di sciroppo di lampone o di vattela pesca ma se quella parte è sporca saranno sporchi pure l'acqua lo sciroppo di lampone o vattela pesca quindi 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 se non fai pace con lo spazio vuoto dentro di te niente potrà mai davvero riempirti nemmeno un marito tantomeno un marito ricorda principessina tutto quello che ti serve per riempire la tua vita è robaccia è acqua sporca tutto quello che la tua vita accoglierà perché le capita e perché comunque le starebbe bene anche essere vuota è invece roba buona acqua pulita fai come la bottiglia allora smettile una volta per tutte di rincorrere tutte queste avventure è il puro fatto di stare al mondo la vera avventura quante volte chiediamo agli altri di di darci un senso e io l'ho fatto e poi però non a caso le persone che invece a cui non chiediamo di darci un senso ma con cui lo troviamo insieme per esempio a me alla scrittura io non ho chiesto di darmi un senso è qualcosa di vero però a quante cose chiediamo a quante finte fedi a quante persone che improvvisiamo come amori della nostra vita o guru chiediamo semplicemente di darci un'identità e io sarò sempre tutti i miei libri alla fine portano lì questo più di tutti portano al fatto io penso veramente che ci potranno salvare le persone originali io ci credo sono quelle che sono un po' buffe un po' giuste un po' blu molto blu e però sono uguali solo a loro stesse e questo libro è un po' un invito per dire e lo so che è difficile la vita a sentire col nostro cuore a pensare con la nostra testa però la principessa noi siamo dalla parte vostra i personaggi di questa storia ti fanno per quello invece mi racconti che cosa volevi raccontare con madama noia la noia ma io la mia vita è divisa proprio in due parti nel senso c'è la parte in cui escono i miei romanzi li promuovo o quando lavoravo in radio sono una persona che col lavoro ha un rapporto molto serio e poi c'è la parte del mio lavoro e della mia vita in cui io questo libro l'ho scritto trasferendomi tre mesi in un'isola greca che si chiama Milos non ci credo te lo giuro ma veramente ma tu sei come quegli scrittori che devono scrivere isolati ma mi spieghi che cosa vi succede ma perché cioè non potete scrivere 24 ore su 24 da soli io non ci riesco non mi viene una paranoia io non ci riesco no io non ci riesco no io non ci riesco io scrivo mentre giro il sugo è vero che non scrive beh non è così non sono io la ferrante però però non so come dire forse faccio anche un altro mestiere autrice che non scrittrice però tu non senti il bisogno per quanto cioè dell'isola deserta no però di un momento in cui eh lo so eppure io in quel momento pensa che io io ho problemi con son dormo da sola nell'isola greca da sola col portinaio Cesare no non c'è più amore eh no non c'è più però cioè tu prendi parti guardi la cartina fai così scegli no d'estate la grecia d'inverno l'africa c'è posti però ah non eh un libro un anno lì davvero sono stata sempre da sola l'ho scritto adesso sono curiosa non puoi capire no ma mi sta venendo l'anima di signorini in questo momento è venuto persi in caldo cioè un libro che si intitolava è un libro di qualche anno fa quattro etti d'amore e grazie ecco sì l'ho scritto mi sono trasferita a forma intera che modo c'è forma intera però no no aspetta dal 15 settembre dal 15 settembre a dicembre non c'è nessuno e sono stata lì e io in quei momenti mi sento veramente da sola lì ero proprio sola poi in altri casi viaggio con una o due persone con cui però è possibile annoiarsi insieme cioè con cui è possibile andare in quello stato lì in cui ecco a proposito di madama noia io penso guarda te lo dico io la più bella dichiarazione d'amore che ho ricevuto è stato un uomo che mi ha detto dice io non vedo l'ora di annoiarmi con te era bello perché voleva dire eh no io faccio un po' fatica eh ma anch'io però di annoiarsi insieme di la noia intesa la noia intesa come senso del non fare del non fare però ci sono due non fare c'è il non fare perché non sai che fare e c'è il non fare c'è quel momento lì ma lo sappiamo tutti anche se non facciamo un lavoro artistico artigianalmente inteso come farsi venire delle idee diciamo senza usare paroloni però quel momento in cui i nostri pensieri che sono ho fatto la spesa ho fatto questo ho pagato la donna di polizia ho fatto questo a un certo punto c'è quel momento in cui ad esempio a me succede camminando io cammino io non ho il motorino non ho la macchina io cammino tanto succede camminando c'è quel momento in cui si spezza al ritmo ossessivo ho fatto questo devo fare questo e arriva un'idea arriva una fantasticheria arriva un'idea quelli sono momenti che secondo me in questa società stiamo un po' perdendo stiamo un po' perdendo e a me dispiace perché secondo me viene meno quello che a me più ha reso possibile stare al mondo che è prenderla un po' a ridere e inventarsi delle storie cioè trasformare la realtà in un modo in un modo un po' cioè un po' sopportato non l'hai visto il film eh no perché io sono qualcosa di sto cavolo eh però la mattina e la sera quindi infatti sono ammirata da questa cosa della noia ma perché guarda che comunque dirlo è facile però tanti miei amici però la noia poi ti senti in colpa non ti viene nel senso di colpa se scrivi no potrei fare quello potrei fare quell'altro se la scrittura diventa il tuo lavoro no nel senso se sai che stai lì a fare quello però una giornata di noia di quelle proprio però belle come si organizza? beh io poi faccio appunto il non fare diventa un fare nel senso lì c'è la scrittura la lettura no perché io scusami vi racconto questa cosa che mi ha raccontato la mastrocola che fa molto ridere che lei ha preso una casa a stromboli stromboli ma una robina piccola no e va lì ma in d'inverno anche a stromboli va in d'inverno e sta prima ci va bellissimo bellissimo comunque vabbè e dico ma che cosa fai? perché io e invece sono fissata cosa fai? fai? cosa fai? e lei dice mi sveglio mi metto sul terrazzo e guardo il mare ok dopo dieci minuti no un'ora un'ora e mezza un'ora e mezza guardi il mare è uguale no no poi faccio colazione poi scrivo un po' poi da lì mi alzo e vado a fare una passeggiata poi torno mangio torno faccio un pisolino sei stanca faccio un pisolino poi mi sveglio guardo il mare e poi scriverai di nuovo no non è detto non è detto poi magari vado a fare due commissioni capirei cosa c'è a stromboli non andrò a comprare poi torna torna mangiamo e poi trombi no vado a dormire e lei i libri li scrive così e io anch'io però ti trombi spero almeno un pochino dai neanche perché sei da sola lì oppure con persone con cui non condivido questa attività no perché quello distrae eh lo so cioè quello cioè me lo ricordo quello distrae è un altro discorso è proprio un altro discorso no 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 è veramente un entrare in una io ci conosciamo poco ci siamo di fatto conosciute stasera ma hai capito quanto interscambio anche nevrotico io ho con queste mani lì è proprio un dire anche a tutte le persone che chiedono il mio aiuto dire eh non posso perché c'è roaming no cioè non posso quello è figo non posso anche col telefono non posso non c'è connessione non posso e sai che cosa ho fatto a Natale dove sono delle specie di salassi dove io dovevo cominciare avevo intenzione di cominciare un nuovo romanzo ancora nonostante dovesse ancora uscire questo adesso a Natale sono andata in un'isola deserta ma come l'isola dei famosi ma mangi le vongole quelle robe lì spacchi i cocchi quasi questa pensa che a un certo punto c'è stata una tempesta di nebbia e l'aereo non è potuto partire per quattro giorni perché non c'era il radar che paura ma io morirei di FIFA la paura non c'è non è tanto contemplata la paura a me fa più paura il rumore a me fa più paura Roma al centro di Roma la raggi tipo mi fa più paura ma quello lo capisco mi fa più paura anche io andrei in Africa sai e lì non prendeva non riuscivo nemmeno a scrivere perché poi può capitare che quella cosa non riesce sai che cosa ho fatto ho finito Proust tutti e sette i volumi e tu dirai e che avventura comunque sì e io mi sento cresciuta ma non è retorica o cosa no ma è bello è affidata poterselo permettere bisogna bisogna riuscire io ho fatto tanta radio ho fatto tanta televisione a un certo punto i libri sono diventati la mia vita ho avuto la fortuna che potessero diventare la mia vita e quindi potermi permettere questi momenti in cui però imparo sempre qualcosa ma non solo di me anche di tutto quello che ho vissuto con questo fortissimo interscambio con gli altri durante quei mesi ed è per questo che poi arrivano arrivano i libri ma quindi tu a un certo punto hai l'idea e poi e dici adesso devo scrivere e devo andare e devi andare e la mattina scrivo e il pomeriggio cammino e guardo il mare e guardo il mare e cammino cammino tanto ti presenti la Mastro Cola la conosci secondo me mi trovereste bene amo molto i suoi libri ma non la conosco come persone però io cammino tanto quello fa anche lei lei per esempio scrive in biblioteca no a casa perché perché voi scrittori siete strani ma io penso che c'è anche chi riesce come è il tuo luogo di scrittura dove scrivi tu a parte quando sei in Africa che scrivi però io di solito li imposto lì e poi riesco a casa mia a portarli avanti però bisogna ad esempio di molto silenzio però ognuno è fatto come è fatto c'è chi riesce a scrivere in mezzo io essendo una persona molto distraibile poi cioè a me mi può distrarre qualsiasi cosa parla una persona mi interessano gli altri tanto troppo mi interessano gli altri però so l'effetto su di me importante che hanno fatto le persone o le situazioni e questo ho voluto raccontare in questo libro le persone le situazioni che anziché incendiare quel incendiare disattivavano disattivavano perché tanto se se le persone ti danno tanto se tu vuoi troppo è sempre poco questo segnatela anche se non ti danno niente potete scrivere per piacere voi di longanesi tutte ste robe perché poi se non ti danno niente o se un posto non ti da niente sei costretto a inventare qualcosa a dargli un valore e forse a dartelo pure a te ok Grazie.